buon ragazzi e bentornati su brawl stars oggi ragazzi siamo qua tornati su brawl stars per andarci a fare qualche partita e per aprire quelle due casse che vedete sotto quelle cassi brawl sono un po il tempo un attimo che sposto qua ok meglio sono salito ultimamente sono per sbloccare jesse e un una casa brawl quindi regadere intanto andiamo ad aprire queste due casse qui sotto iniziamo bam apriamo 30 monete più 4 di bombardino e bull più 10 ok seconda cassa brawl apriamo subito subito 18 monete più 4 più 6 di colto e più e più 10 di bombardino e ok allora ho sbloccato come potete vedere barril che è un nuovo brawler molto molto carino eccolo qua mi piace veramente veramente tantissimo io direi rega di andarci a fare qualche a raffa gemme però per la raffa gemme questo brawler non è molto buono mi piace molto bombardino dai rega proviamo per andare a fare raffa gemme bombardino eccoci qua che siamo in game siamo in game con bombardino vedete rega anche i nemici lo usano bombardino perché è veramente veramente OP eh rega però se stiamo così con bombardino come se stiamo così con bombardino eccoci qua Abbiamo poca vita, abbiamo poca vita, dai, dai, dai. Vai, 4, 4, 4, vai. Run, run. Anche il primo è molto buono, eh. Non ci abbiamo pensato del primo. Ok, regà, tranquilli. Recuperate vita, siamo a 5-5. Una partita molto equilibrata. Hanno, kill, 1, 1, il nostro. Eh, caro amico, è il primo, direi, di fare subito danno al bombardino. Credete che andiamoci a prendere queste due gemme? Credete che andiamocene? E facciamo il mega attacco, bam. Tutto accentrato. Là, regà, stiamo a 9-6. Bene, ma non benissimo. Noi stiamo andando benissimo. Regà, tagli, regà, tagli. Camperiamo, camperiamo, vai. Regà, tutti via, tutti via, tutti via. 9-6. Sì. Vinta anche. Questa partita. E regà, l'abbiamo vinta. E regà, l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta. Bella, GG. Ragazzi, cosa dite? Ci mancano solo 6 trofei. Arriviamo a 4,50 insieme per avere un'altra cassa. Quindi, ovviamente, sopravvivenza in singolo. A camperare tutto il tempo. Ci mettiamo adesso... Dai, 1 è il primo potente. Andiamo subito a spaccare in sopravvivenza. Camperando, come sempre. Andiamo, regà. Regà, ovviamente, come a camperare. Voglio subito, subito, avere questi 6 trofei. Abbiamo 444 trofei. Tra 6 trofei solamente, arriveremo a 450 coppe. Dopo 50, sbloccheremo la nuova brawler Jesse. E' un brawler molto, molto bello. A parer mio, dobbiamo stare molto, molto attenti. Cioè, regà, sia Bull... Ok, regà, io non so se mi conviene andarlo a prendere quello. Ah, regà, qualcosa dovremmo aver preso, eh. Pure se siamo arrivati i settimi, toh. Meno uno! Ah! No! Allora, regà, dai, ce l'andiamo a fare subito, subito. Un'altra. Questa camperiamoci la meglio, eh. Che la nostra tattica è sempre funzionata. Guardate, io ho due i cosini che ho qua. Me li prendo tanto. Non mi mena nessuno. Pam, presi. E tacca camperare. Soprattutto già in sette, regà. Già stiamo in sette, quindi già qualcosa ci dovrebbe dare. Dobbiamo arrivare secondi adesso per avere i nostri sette trofei. Per arrivare. Ovviamente alle 4.50 di coppe. C'è una shell che non sa. Avantale noi la predictiamo facendo un bel... Tac, eccoci. Poveri che ha visto che il Nita non mi ha visto subito qua. Purtroppo qua è dove abbiamo perso prima, però. Adesso siamo un po' più fiduciosi, dai. Ok, regà, hanno ammazzato una Jessie, siamo in 6. Ok. Regà, ho molta paura perché se vi è la shell in alto a destra che ci potrebbe vedere. Ora aspettiamo, regà, che se ne vada, siamo arrivati in 3. Regà, se non ci vorrei siamo a cavallo, regà, siamo a cavallo. Aspettiamo di restare 1v1. Ok, regà, ci stanno scannando. Scontrofilano 1v1, eccoci subito. 2 contro 9. Allora, c'è un colt come ultimo. Ok, noi ricarichiamo. Siamo andati in una bella roccia. Vabbè, regà, ci facciamo, ci facciamo ammazzare. Chi sarà, regà, ci siamo fatti ammazzare. I nostri 7 trofei. Bam, regà, procediamo. E primo grato 6. E regà, finalmente, road. 250 trofei. Eccoci qua. Cazza, una brawl cast. Brawl chest. 17 monete. Più 5 di bull. Più 10. Più 8 di colt. Ci sta, ci sta, regà. Il prossimo obiettivo è road tu 500. Ma facciamo così, regà. Per questo libro starts. Può essere tutto. Noi ci vediamo domani pomeriggio con Fortnite alle 3. E niente, vi saluto. Ciao, woods.